L'autocoscienza L'autocoscienza della contemporaneità appare sempre più identificabile con quelle prospettive teoretiche che sottolineano come i montanti processi di decentramento, frammentazione, fluttuazione irregolare, ma anche all'opposto di crescente connessione e reciprocità, comportino un quadro interpretativo del reale a crescente complessità, con risultato di rendere via via inutilizzabili gran parte degli strumenti concettuali ed operativi appartenenti al passato anche recente. Complessi ed inattaccabili da ogni forma di riduzionismo sono, e lo diventano sempre di più, le forme di organizzazione politica e sociale, i sistemi di relazione di ogni tipo, le ricerche scientifiche e le riflessioni epistemologiche, le infrastrutture tecnologiche. L'autocoscienza L'esito non è però caotico poiché le transizioni con rotture di simmetria, sottolinea Prigogine, sono significative solo se portano a soluzioni asintoticamente stabili, autoselezionate, fra le molte soluzioni che diventano possibili simultaneamente oltre il punto di biforcazione. Ad esempio, proprio perché nel presente universo la materia è stata selezionata rispetto all'antimateria, i nuclei, le galassie o gli esseri viventi si sono potuti formare il luogo di una progressiva annichilazione materia-antimateria che produce solo fotoni. Secondo Prigogine, questa descrizione della complessità fisica può svolgere il ruolo di modello archetipo per capire altri tipi di sistemi che mostrano un comportamento complesso, archetipi che però non vanno adottati meccanicamente in ogni contesto e in ogni tipo di sistema. Un altro tema fondamentale della filosofia della complessità riguarda la capacità di auto-organizzazione dei sistemi complessi. Un elemento che è in grado anche di mostrare tutti i limiti della volontà di potenza, della manipolazione, dell'artificialismo che si associavano al paradigma ingegneristico moderno, da Cartesio in poi. Le nozioni cibernetiche di feedback, di ricorsività, di trattamento ricorsivo delle informazioni, questi temi hanno aiutato a sviluppare il concetto di sviluppo dal disordine e dal cosiddetto rumore, che in teoria dall'informazione è l'informazione ambigua o non decodificabile, rumore e disordine che fanno da alimento allo sviluppo dei sistemi auto-organizzati e complessi, che quindi rifuggono dalle rigidità, dalla semplicità e dai criteri ottimizzanti di efficacia tipici del razionalismo classico. Un altro elemento che entra da far parte di questo tipo di discussioni è quello di organizzazione, questione che supera la classica dicotomia, fa parte e tutto, e che è tipica dei sistemi di auto-organizzazione o come sono definiti dagli epistemologi Maturana e Varela, sistemi autopoietici, nei quali appunto occorre distinguere fra organizzazione, cioè le norme relazionali interne al sistema, e struttura, cioè i componenti e le relazioni effettive del sistema. Per cui, secondo la teoria dell'autopoiesi, l'organizzazione di un sistema è necessariamente un invariante, e quando l'organizzazione di un sistema cambia, il sistema si disintegra, viceversa la struttura di un sistema può cambiare. Ora, l'epistemologo Henri Atlan ha messo in luce, dal canto suo, come la nozione di organizzazione nei sistemi complessi abbia caratteri apparentemente contraddittori, poiché implica sia ridondanza che varietà. Sotto questo profilo un ottimo esempio di sistema complesso è la nozione di programma genetico, per quanto esso descrive un sistema chiuso, poiché il programma genetico, scrive Atlan, ha come compendio una teoria dello sviluppo epigenetico che implica l'esistenza di interazioni non programmate fra il programma stesso e l'ambiente, in maniera tale che vengano selezionate talune potenzialità del programma e ne vengano eliminate delle altre. La stessa nozione di potenzialità è una generalizzazione di un fenomeno della genetica molecolare, il fenomeno della repressione e della derepressione dei geni, la repressione dei caratteri genetici che li tiene in una forma d'esistenza di tipo potenziale e la loro eventuale derepressione vengono tutte a dipendere da proteine regolatrici, le quali sono a loro volta dipendenti da geni regolatori e così via secondo un processo ricorsivo e infinito dalle proteine ai geni e dai geni alle proteine. Oltre alla ridondanza, che agli occhi di un criterio di efficienza razionale classico appare essere uno spreco, un altro elemento che è tipico dei sistemi complessi è la gestione del disordine, che diventa un elemento costitutivo del sistema stesso. Per Atlan l'auto-organizzazione è infatti un processo di aumento di complessità, sia strutturale che funzionale, il quale è l'effetto di una successione di disorganizzazioni controllate, seguite ogni volta da un ristabilimento a un livello più alto, di varietà più grande e di ridondanza più scarsa. Il disordine e la disorganizzazione temporanea sono quindi strategie utilizzate dai sistemi complessi al fine di evolvere, di auto-organizzarsi in senso crescente. Una delle migliori applicazioni del pensiero della complessità agli organismi sociopolitici è stata offerta dal sociologo tedesco Niklas Luhmann, secondo il quale le vecchie categorie di dominio non sono più adatte a descrivere le società complesse dei nostri giorni, in cui si manifesta un intreccio, invece, fra processi di accentramento ordinativi e tendenze centrifughe moltiplicative di decentramento. L'ordine della complessità, ovvero l'ordine della modernità matura, è quello di un flessibile equilibrio fra aumento dell'integrazione del controllo e, all'opposto, crescita delle autonomie periferiche. Secondo Luhmann ha avuto così origine un sistema senza centro, ma con un più elevato auto-orientamento, senza un orientamento centrale. Un sistema che non è più comprensibile con le vecchie teorie della tradizione politica, orientate al dominio, e che soprattutto non può essere più sufficientemente criticato tramite esse. Posto infatti che la crescita della complessità consista in una moltiplicazione eterogenea degli impulsi al mutamento, e dunque prevede anche il conflitto fra programmi evolutivi diversi, le opzioni evolutive devono comunque fare i conti con la compatibilità rappresentata dalla complessità stessa. I programmi politici alternativi, ad esempio, giocano un ruolo tanto di competizione quanto di cooperazione, il che conduce Luhmann a descrivere le società altamente complesse come società che si sviluppano non verso stati anticipati che si cerca di raggiungere, bensì in relazione allo sviluppo, in relazione alla già crescente complessità. In questo contesto, l'individuo può godere di un maggior margine di libertà. Scrive Luhmann, Nei sistemi sociali complessi, il se è poco, ma non è isolato, è coinvolto in un tessuto di relazioni più complesse e mobili che mai, il suo spiazzamento rispetto agli effetti dei giochi linguistici è tollerato, almeno entro certi limiti, anche se vaghi, ed è anche suscitato dalle regolazioni e soprattutto dai riaggiustamenti che il sistema produce per migliorare le proprie prestazioni. Il sociologo e filosofo Edgar Morin ha cercato di dare una veste unitaria alle differenti riflessioni sulla complessità, elaborando una sorta di enciclopedia della complessità che parte da un assunto di base, e cioè il passaggio che si è verificato in tutte le discipline e in tutte le forme di conoscenza, da quella che egli chiama la monarchia dell'oggetto sostanziale e dell'unità elementare alla centralità del concetto di sistema. Il sistema per Morin è una sorta di unitas multiplex, considerato dal punto di vista del tutto, esso è uno e omogeneo, considerato dal punto di vista dei costituenti, esso è diverso ed eterogeneo. Inteso quindi come unitas multiplex, il sistema, dice Morin, è la complessità di base. In questo contesto, gli sviluppi sistemici non hanno un unico criterio di descrizione. Per Morin, l'idea semplice di ordine eterno non può essere sostituita da un'altra idea semplice, fosse anche il disordine. Solo inseguendo l'intreccio del dialogo ordine-disordine, si può tematizzare quella che egli chiama la galassia complessità. Scrive Morin, L'universo di fuoco, sostituendosi al vecchio universo di ghiaccio, fa soffiare il vento della follia nella razionalità classica, che connetteva in sé le idee di semplicità, di funzionalità e di economia. Il calore comporta sempre agitazione, dispersione, cioè perdita, spesa, dilapidazione, emoragia. La spesa era ignorata laddove l'ordine regnava sovrano. Esso significava al contrario economia. L'economia cosmica, fisica e politica si fondava su una legge generale del minimo sforzo. Un universo trasformato e trasformante con il calore ci fa invece rifiutare, quale astrazione idealista, ogni concezione che nasconda la spesa, non soltanto come costo, prezzo, dispendio, quote di pagamento, ma anche come dissipazione, dispersione, deficit. Gli incontri producono più dispersioni e distruzioni che organizzazioni. Per costituire un'organizzazione, per edificare un ordine, per mantenere una vita in vita, ci vogliono tante e tante agitazioni inutili, tante e tante spese vane, tante e tante energie dilapidate, tante e tante emorragie dispersive. Il pensiero razionalista porta con sé un aspetto di razionalizzazione demenziale nel suo occultamento della spesa assurda. Un anello tetralogico, circolare e ricorsivo, che coniuga ordine e disordine, organizzazione e interazioni, e quindi lo schema concettuale più fecondo per illustrare la galassia complessità. Per quanto attiene al sistema di forme, cui dà luogo una costruttività così intesa, questo va visto nell'immagine antiarchitettonica dell'arcipelago. Scrive Morenne, il nostro mondo organizzato è un arcipelago di sistemi nell'oceano del disordine. Si trovano in natura, a massi aggregati di sistemi, flussi non organizzati di oggetti organizzati. Ma ciò che è notevole è il carattere polisistemico dell'universo organizzato. Questo è una stupefacente architettura di sistemi che si edificano gli uni sugli altri, gli uni fra gli altri, gli uni contro gli altri, che si implicano e si imbricano vicendevolmente con un gran gioco di ammassi, plasmi, fluidi di microsistemi che circolano, galleggiano, circondano le architetture composte dai sistemi. Quindi un universo arcipelago, costruttivo, dispersivo, è il risultato dell'evoluzione non lineare della complessità. In questo contesto, per Morenne, l'emergenza rappresenta un frutto ultimo a cui si associa una certa oscurità e fragilità. E gli scrive se è vero che le emergenze costituiscono non qualità originarie, ma qualità di sintesi, se è vero che esse, sempre secondarie dal punto di vista cronologico, sono sempre primarie per qualità, se è vero dunque che le qualità più preziose del nostro universo possono essere soltanto delle emergenze, bisogna allora capovolgere la visione dei nostri valori. Volevamo vedere queste virtù squisite sotto forma di essenze inalterabili, di fondamenti ontologici, sono invece frutti ultimi. Essi rappresentano ciò che vi è di più fragile, di più alterabile. Un niente li farà sfiorire, la degradazione e la morte li colpiranno per primi, mentre noi li crediamo o li vorremmo immortali. Il vincolo, infine, è la natura tipica dell'ordine sistemico, espressione delle fluttuazioni trasformatrici che in esso assumono i processi formatori. Dobbiamo valutare, scrive Morenne, in ogni sistema, non soltanto il guadagno in emergenza, ma anche la perdita in seguito a vincoli, asservimenti e repressioni. Il vincolo esprime dunque la capacità condizionante che le interazioni passate esercitano su quelle future, indirizzandole verso stati, benché plurimi, di stabilizzazione. Ne risulta anche la nozione di virtualità e di conflitto. La conservazione delle differenze, scrive Morenne, presuppone allo stesso modo l'esistenza di forze di esclusione, di repulsione, di dissociazione, senza le quali tutto si confonderebbe e non sarebbe concepibile nessun sistema. L'area della virtualità rappresenta dunque per ogni tipo di sistema un'area di conflitti potenziali, sotterranei inattivati ma pronti ad innescarsi. Grazie.